Perché non festeggiare il nuovo anno con uno, anzi, due concerti? Il grande capodanno grecanico Arogu di nuovo, tappa Alica Festival, con in concerto Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo e di Amacorà, il 31 dicembre, dalle ore 23 e 30, Arogu di nuovo, ingresso gratuito, info www.alicafestival.it Alica Festival, vivi la potenza della musica!